io penso che questa Lazio qua, questo scudetto del 1915 qua, questo bisogna abolirlo subito perché lo scudetto della Lazio l'ha portato Giorgio Chinaia qua, questa è l'altra delle cose nel 73-74 io ho segnato 24 go in 30 partite qua e sono stato colui che ha portato lo scudetto alla Lazio, questa è l'altra delle cose, se vengono questi del 1915 che non conosco per niente io perdo la mia fama, il mio prestigio, l'ho portato per la seconda volta lo scudetto a Roma quindi questo avvocato Mignoni a che vuole, adesso lo prendiamo, lo cacciamo via subito a questo mio grazie, grazie Giorgio